Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla. Come in una favola c'è dolore, e come una favola è piena di meraviglia e di felicità. Buongiorno, principessa! Prego, principessa. Avevo aperto il carro ormai. Buongiorno, principessa! Andiamo, 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 si non vorrei ci dicessero troppo tardi. Abbiamo tornato a casa, eh? Oh, fermi, siamo prenotati, fermi! E la mamma! L'ho fermato il treno, posso a salire la mamma. Che lo dici, babbo, che gioco, eh? Ci sono gli uomini di qua, le donne di là, e poi ci sono i soldati, ci danno tutti gli orari, lo stesso vinciso. Che lo dici, che prego, eh? Allora, amato, vero, nuovo, nuovo. Buongiorno, principessa! Sì, hai visto un vero? Allora, domani mattina il gioco finisce, c'è la premiazione. Sì, hai visto un vero? Allora, domani mattina il gioco finisce, c'è la premiazione, 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 c'è la premiazione. Sì, hai visto un vero? Allora, domani mattina il gioco finisce, c'è la premiazione, c'è la premiazione, c'è la premiazione.